Assaltato a tutta velocità la coda di macchine ferme per un incidente, invadendo l'altra corsia per poi schiantarsi frontalmente con un'auto che proveniva da senso opposto di marcia, uccidendo sul colpo i due occupanti. Queste le gravissime accuse nei confronti di un uomo di 44 anni, residente nel veneziano, arrestato nelle scorse ore dai carabinieri con il reato di omicidio stradale plurimo. Ieri, lungo la Romea, nel territorio del comune di Codevigo, nella provincia di Padova, perdere la vita un uomo di 51 anni, Carlo Cavaleri, e una donna di 48, Concetta Bilardi, entrambi di origine siciliana, ma residente nel veneziano, la coppia viaggiava su un Alfa Romeo Coupé, mentre il 44enne accusato di omicidio plurimo, su un SUV.